Abbiamo il progetto di legge che già c'è ancora in commissione riguardo alla riforma delle ATER su cui io mi sono già in qualche maniera rapportato con la maggioranza del PDL ma anche con altri gruppi per ragionare insieme e cercare di sempre verso la direzione perché noi parliamo sempre di riduzione della spesa di spending review però quando poi si tratta di mettere mano ad un disegno di legge e quindi a sradicare quei localismi che ancora resistono e ci sono molte difficoltà e allora mettere insieme diciamo più anime all'interno di una maggioranza composita probabilmente potrebbe anche essere questo un elemento per accelerare evidentemente una riforma ma arriviamo pensando di fare un'ATER unica e questo diciamo è un passaggio che io ritengo che sia fondamentale grazie